Gianni Colacione per LibriTV, oggi è 22 aprile 2014 e parliamo di diritto d'autore. Parliamo di diritto d'autore prendendo spunto da un regolamento che è entrato in vigore il 31 marzo, quindi da poco, regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedura attuativa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003. Ne parliamo con Giuseppe Mazzotti, avvocato radicale, esperto di diritto d'autore. Dal 31 marzo è entrato in vigore il regolamento Agicom, di cui molti di voi avranno sentito parlare e avranno letto anche su internet, perché non credo ci sia stato recentemente provvedimento dell'Agicom più vivacemente e lungamente contestato di questo. È un regolamento di cui si parlava da tempo, che era già stato in qualche modo studiato e messo in programma dall'Agicom sin dal 2010, quindi ci sono voluti diversi anni per arrivare a una sua adozione, adozione che è del dicembre dell'anno scorso, del 2013. E da pochi giorni in vigore, quindi non conosciamo ancora, non abbiamo esempi di adozione di provvedimenti sulla base di questo regolamento, possiamo semplicemente fare delle prognosi, possiamo provare a capire di cosa si tratta. Si tratta fondamentalmente di uno strumento aggiuntivo che viene fornito ai titolari di diritti d'autore, dal più piccolo e dal più sconosciuto degli autori alla più grande multinazionale del cinema o della musica, per arginare in qualche modo il fenomeno della pirateria che in Italia si dice essere dilagante. Noi ci dobbiamo fidare ovviamente, se sono le cerche di mercato, ce lo dice anche il nostro simpatico alleato americano, che più volte negli ultimi dieci anni ha messo l'Italia nella lista di quei paesi che non tutelavano a sufficienza la proprietà intellettuale insieme ad altri, per esempio la Spagna. E quindi l'Italia cerca in qualche modo, in maniera non comune rispetto agli altri paesi europei, di dotarsi di un altro strumento che lo faccia uscire in qualche modo dall'orbita di quei paesi che non prendono sul serio la proprietà intellettuale e soprattutto il diritto d'autore su internet. Ora questo problema non è soltanto italiano, è un problema planetario, è un problema europeo, ciò che ci rende un po' speciali come sempre è il metodo che abbiamo trovato, il mezzo che non è un mezzo che ha uguali in Europa se non, facendo un po' l'eccezione della Spagna e dell'Inghilterra sulla carta, che hanno dei sistemi di cosiddetto enforcement, quindi applicazione del diritto d'autore, attraverso strumenti non giurisdizionali ma amministrativi. In cosa consiste il regolamento Agicom? Consiste nella possibilità di rivolgersi, bussare alla porta di Agicom in maniera snella, veloce, si spera efficiente, individuando dei contenuti protetti dal diritto d'autore che sono messi a disposizione degli utenti in vario modo online, quindi su internet, e avendo la possibilità di chiedere, in qualche modo con la forza che viene conferita dal procedimento amministrativo aperto da Agicom, di rimuovere quei contenuti che ledono gli interessi e i diritti dei titolari di diritti d'autore. Quindi porterà questa procedura a una rimozione, si spera per i produttori di contenuti, per i creatori, una rimozione di questi contenuti che dovrà essere quanto più possibile, questa ormai è giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo, dovrà portare quanto più possibile alla rimozione di contenuti protetti dal diritto d'autore in conformità con quei principi di libertà d'espressione, di proporzionalità, di adeguatezza della sanzione, che siano in grado di tutelare poi la libertà di comunicazione, di espressione su internet, che è in qualche modo il comun denominatore delle reti di comunicazione elettronica. il fatto che non ci sia più un controllo dall'alto verso il basso, ma che ci sia una distribuzione dei contenuti perfettamente paritaria, questa è la caratteristica che rende internet uno strumento rivoluzionario. Agicom è in qualche modo un'alternativa, è soltanto un'alternativa alle corti, ai tribunali, perché nel regolamento Agicom in più occasioni, se qualcuno di voi avrà la pazienza di leggerlo, è un regolamento non semplice, tecnicamente molto complesso per chi non è abituato a leggere testi giuridici, e anche per chi lo è, magari non è uno specialista di questa materia, in vari punti del regolamento si comprende bene che questa non è che una procedura aggiuntiva rispetto alla norma. La norma per la tutelare dei diritti, anche in un paese come l'Italia, che non brilla per questo, qual è? È la giurisdizione civile. Cioè i diritti autori sono diritti soggettivi, la cui violazione qualche volta nei casi di contraffazione più gravi dà adito a figure di tipo penalistico, a fatti specie di tipo penalistico, quindi fatti specie per le quali si può intervenire ex ufficio con il pubblico ministero, cosa che è accaduta, ma che in teoria bisognerebbe tutelare con i rimedi civilistici, i rimedi che in Italia dovrebbero essere presi oggi dai tribunali per le imprese, che erano prima le sezioni speciali per la proprietà intellettuale, di cui il legislatore aveva sentito l'esigenza, proprio per dare a questi diritti che in qualche modo vengono visti come diritti che favoriscono gli investimenti, l'innovazione, in qualche modo la diversità culturale. Per questi diritti l'Italia aveva creato e mantiene in vigore delle sezioni specializzate, che sono quelle che si dovrebbero, in qualche modo, a cui andrebbe richiesto un intervento per attutare il diritto d'autore in primis. Ora, io ho l'impressione, molto francamente, che questo regolamento della cui bontà potremmo dire meglio tra qualche mese, tra qualche tempo, non sarebbe probabilmente mai stato approvato, peraltro senza una delega esplicita del Parlamento. Questa è una cosa che ovviamente ha dato adito a moltissime polemiche e ha dato moltissimo materiale a tutti i detrattori del diritto d'autore to cure. Io non sono un detrattore del diritto d'autore, ne ho fatto materia di studio e approfondimento negli ultimi dieci anni della mia vita di studioso, anche a livello accademico, quindi io sono un sostenitore del diritto d'autore, sono profondamente convinto, però che il digitale obbliga un ripensamento comprensivo del diritto d'autore è un adattamento che più lungo diventa, più il diritto d'autore diventa in qualche modo screditato, perché anche l'utente semplice, dal ragazzino alla nonna, si rende conto che non regge su alcuni punti. Però io sono sostenitore del diritto d'autore, sono convinto che il diritto d'autore vada tenuto in piedi, che però vada in qualche modo adattato alla nuova realtà tecnologica. Però uno dei motivi per cui il regolamento agico è stato così contestato è perché si appoggia come base legislativa a un decreto legislativo che è del 2003, il decreto legislativo 9 aprile 2003, numero 70, che è il decreto legislativo attraverso cui l'Italia recepì nel 2003, quindi oltre dieci anni fa, la direttiva europea del 2000 sul commercio elettronico, che comprende anche quelle regole riguardanti la responsabilità dei provider, cioè tutti coloro che danno servizio di accesso alla rete o di servizio di memorizzazione di contenuti, a prescindere dal loro stato di contenuti protetti o no, quindi di mera informazione, rispetto a pretese che possono derivare da chi accampa in qualche modo dei diritti su quei contenuti. La direttiva sul commercio elettronico non si occupa di diritto d'autore, si occupa in qualche modo di una serie di profili che riguardano la responsabilità dei provider, però il diritto d'autore ci rientra dentro pienamente e uno dei motivi per i quali il regolamento agico è stato approvato è che questa implementazione in Italia di fatto non ha funzionato. Se a qualcuno di voi capita di avere un proprio contenuto, una qualcosa di propria creazione online, qual è la strada maestra che il diritto europeo e la direttiva sul commercio elettronico indica? È una strada che viene riassunta, si viene condensata nel principio di notice and take down, tradotto in italiano sarebbe segnala e butta giù, prendi giù il contenuto, cioè si ribalta in qualche modo la logica classica del diritto d'autore secondo cui prima di trasmettere un contenuto bisogna acquisire il diritto come si fa ancora nei media cosiddetti lineari, prima di acquisire, prima di trasmettere un contenuto protetto se vuoi che quella trasmissione non sia intrinsecamente illecita devi far sì che il titolare del diritto abbia espresso il proprio consenso e abbia ricevuto il compenso pattuito. È così che funzionava nei media tradizionali. Con la direttiva sul commercio elettronico del 2003 questo principio si è ribaltato per evitare che tutti coloro che mettessero a disposizione degli utenti di internet infrastrutture di tipo neutro, una piattaforma di hosting, pensata a YouTube modernamente, ma modernamente potremmo pensare anche ai servizi di social network allo stesso modo, ma pensate anche ai provider di connettività, quelli che vi forniscono la rete, la connessione alla rete, quindi vi forniscono la possibilità di accedere ai contenuti, di scaricarli a casa vostra, di vederli in streaming o comunque di avere questo flusso di dati. Se questi soggetti fossero stati in qualche modo obbligati a rispettare la regola classica della prevenzione del diritto d'autore, internet non si sarebbe mai sviluppato così com'era, perché in qualche modo questi soggetti avrebbero avuto l'obbligo legale e anche pratico di sorvegliare tutto ciò che passava sulle proprie reti. Invece alla fine degli anni 90 e poi con la direttiva del 2000 sul commercio elettronico trasposta in Italia tre anni dopo, si disse politicamente vogliamo rafforzare internet, vogliamo che si crei una struttura forte di comunicazione digitale e elettronica, diamo a questi intermediari una sorta di limitazione, concediamo una limitazione di responsabilità che però viene meno quindi un privilegio che viene meno quando un terzo segnala loro l'esistenza di un contenuto illegale che è un contenuto diffamatorio per esempio, però a maggior ragione un contenuto in violazione del diritto d'autore che nel momento in cui l'intermediario viene messo a conoscenza appunto di quel contenuto non esime più l'intermediario stesso dalla rimozione. cioè si è in qualche modo assegnata ai terzi, ai diretti interessati, nel caso del diritto d'autore i titolari dei diritti, l'onere di andare a dire agli intermediari guarda che su quel sito o su quella data rete è messo a disposizione un contenuto, toglilo perché sei l'unico in quanto intermediario in grado di toglierlo soprattutto se chi lo ha messo chi ha fatto la cosiddetta upload non mi risponde e questa è anche in qualche modo la logica di Agicom quindi la logica di Agicom non fa che istituzionalizzare bisogna vedere se utilmente o no un meccanismo già previsto dalla legge che in Italia però è stato in qualche modo male applicato questa è una mia opinione se chiedete ad altri giuristi mi diranno che non è una mia opinione e così deve essere perché il procedimento di cosiddetta noticing quando tu persona quando tu titolare di un diritto o persona che vuole un certo contenuto che tiene che un certo contenuto sia dannoso per sé o per sé o per altri che si rappresentano il notice non non è concepito con la sua forza obbligatoria con la sua perentorietà come sufficiente la giurisprudenza italiana ha ritenuto in più circostanze che il notice quella semplice il semplice procedimento di segnalazione dovesse essere dato affinché fosse affinché sia ancora vincolante o da un'autorità amministrativa o da un'autorità giurisdizionale questa è la lettera della legge del decreto legislativo del 2003 che in qualche modo sostenuta poi dalla giurisprudenza ha di fatto reso il sistema di notice in takedown non efficace ferma restando la la politica di alcuni grandi intermediari per esempio google che l'invece la segue la segue a livello planetario anche perché è una regola che si è affermata a livello globale o quasi sicuramente a livello dei Stati Uniti ed Europa e la mette in pratica internamente attraverso tra l'altro anche dei sistemi molto sofisticati e molto ben congegnati di riconoscimento di opere per cui l'utente non è autorizzato a pubblicare un certo contenuto provate voi a pubblicare su youtube alcuni brani protetti dal diritto d'autore vedrete che attraverso un meccanismo che si chiama content ID di google google riesce in qualche modo a dare esecuzione a quel principio di notice and take down anzi ad anticiparlo e a far sì che certe creazioni non possono essere messe a disposizione di altri senza l'autorizzazione del diritto d'autore quindi il notice and take down preesiste c'è da almeno 10 anni al regolamento Agicom il regolamento Agicom non fa che creare una sorta di via di mezzo diciamo la verità tra il notice and take down informale che non prevede l'intervento di alcuna autorità che è direttamente tra la persona che ritiene un proprio diritto d'autore un proprio diritto violato sulla base di una trasmissione digitale e chi è nella condizione l'intermediario che è nella condizione di rimuovere l'accesso a quel contenuto per evitare l'effetto dannoso di quella pubblicazione di quella trasmissione questo è proprio lo schema del notice and take down diciamo che all'estremo opposto si situa in qualche modo la tutela giurisdizionale che i tribunali i giudici dovrebbero garantire sulla base del diritto autore e sulla base del sistema di ingiunzioni che in altri paesi ingiunzioni giurisdizionali che in altri paesi ha permesso la chiusura di siti tipo The Pirate Bay di cui sicuramente avete sentito parlare che almeno in dieci giurisdizioni europee non è più accessibile attraverso i domini e i siti classici proprio perché le autorità giurisdizionali in quei paesi hanno proibito ai più importanti provider quindi le compagnie telefoniche di permettere ai propri utenti e ai propri clienti di connettersi con successo ai domini di The Pirate Bay in Italia si è in qualche modo complice anche di questo sono convinto la poca celerità e la poca funzionalità della giurisdizione civile in questo settore fatta eccezione per alcuni tribunali virtuosi alcune sezioni specializzate di tribunali italiani che da sempre sono più efficienti di altre Milano per esempio ma non solo quindi Agicom dà una stampella ai titolari dei diritti una stampella che la cui utilità è ancora da verificare io sono una persona piuttosto pragmatica nel senso che come dicevo qualche minuto fa ritengo che il diritto d'autore vada protetto certo potrebbe essere meglio definito potrebbe essere meglio adattato alla realtà del digitale però sono pro diritto d'autore credo però che l'emanazione di questo regolamento rappresenti in qualche modo un'eccezione uno stato di eccezione da cui nel prossimo futuro si potrebbe tranquillamente uscire tra l'altro se si legge il testo dell'Agicom si capisce che è una misura che potrebbe non durare per anni 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 è una misura di cui si sente l'esigenza per far cambiare registro all'Italia e per farla diventare un paese dove si investe finalmente in contenuti digitali dove si accede per lo più alle serie tv alla musica o al cinema come si fa negli altri paesi dell'occidente dove esista la pirateria dove esistono coloro che contestano il diritto votore da un punto di vista ideologico che non lo possono sopportare eccetera però esistono anche grandissime opportunità di fruizione di contenuti che ormai interagiscono anche a livello come dire di intermedialità non c'è se andate negli Stati Uniti se andate nelle grandi città non troverete un televisore di ragazzi o di persone tra i 30 dai 30 anni dai 20 ai 30 e i 50 anni dico 30 perché sono sempre servizi collegati al possesso di una carta di credito spesso è più facile che ce l'abbia un trentenne che non un ventenne ma io direi anche dai 20 25 in su non c'è un televisore nelle case di queste persone che non sia automaticamente connesso a internet e che non abbia un account per esempio di Hulu o di Netflix che permettono attraverso dei sistemi di abbonamento molto democratici perché si parla di 9 euro e 99 al mese in alcuni casi di accedere a libraries a repertori di cinema di serie tv che qui per esempio in Italia sono offerti da Sky se utilizzate Sky Go Sky Go fa esattamente anche se in modo diverso quello che fa Netflix o Hulu negli Stati Uniti quindi qui c'è anche un problema di assetto del mercato che è diverso che è molto più legato per ragioni e mi capirete bene anche politiche alla televisione piuttosto che alla nuova tecnologia quindi noi col regolamento Agicom ci siamo messi in qualche modo in testa di favorire un cambiamento anche se questo era ciò che io spiegavo il cambiamento dovrebbe essere consacrato in una legge dello Stato o comunque dovrebbe vedere nella tutela giurisdizionale del diritto dottore il suo fulcro come ha detto Giuseppe effettivamente ci sono parecchie polemiche che sono seguite a questa approvazione anzi già prima dall'entrata in vigore di questo regolamento e buona parte di esse hanno a che vedere con ciò che riguarda poi la sanzione e così via secondo te Giuseppe in generale questo regolamento di questa autorità dovrebbe essere autorità indipendente secondo la tradizione un po' anglosassone ecco quali sono le criticità quello che lo rendono un po' più vulnerabile da critiche ovviamente che abbiano un certo supporto e non siano diciamo pretestuose come dicevi Gianni il regolamento è stato criticato con forza da molte da molte parti sono stati presentati anche dei ricorsi davanti all'autorità alla giurisdizione amministrativa quindi al Tar del Lazio in questo caso contro il regolamento allora tra le varie tra le varie critiche che si sono mosse il regolamento oggi comincia la critica della della mancata legittimazione ad agire da un punto di vista legislativo perché di di legislazione secondaria stiamo parlando e pur sempre legislazione anche se non è di origine parlamentare diciamo la base giuridica per questo provvedimento è un riferimento nel decreto legislativo numero 70 del 2003 che mise che traspose nel diritto italiano la direttiva sul commercio elettronico a autorità amministrative per la messa in atto della disciplina di origine di origine europea e quindi del procedimento che ho fatto riferimento qualche minuto fa del cosiddetto notice and take down segnala e tira giù il contenuto illecito sicuramente non giova alla all'idea che i destinatari dell'evolamento possono farsi dell'evolamento stesso il fatto che si sia data esecuzione a quella previsione che faceva riferimento anche a autorità amministrative oltre dieci anni oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore di quella di quella regola è giusto quindi credo che sia legittimo chiedersi perché si sia aspettato così tanto e perché il Agicom non abbia inteso attendere una delega specifica del Parlamento su questo fronte alcuni dicono che il Parlamento per la grande frammentazione politica che lo contraddistingue in questo momento da un lato e dall'altro per la grande delicatezza dell'argomento non avrebbe mai potuto per come è in questo momento prendere posizione sull'argomento quindi siccome c'era bisogno di un po' d'ordine online diciamo gli italiani avevano bisogno di darci una calmata questo è il principio sul fronte dell'utilizzazione non autorizzata quindi illegale di contenuti protetti dal diritto d'autore non si poteva aspettare e quindi si è pensato che fosse in qualche modo pressante l'esigenza di fornire questo strumento appoggiandosi a una delega generica questo è sicuramente un un punto debole obiettivamente penso sia riconosciuto da tutti e siamo ansiosi di penso la comunità di di esperti di giuristi ma in generale penso l'opinione pubblica penso sia curiosa di vedere quale sarà il risponso del Tar di fronte a questo a questo appunto che è un appunto importante a differenza della Spagna per esempio dove alla fine del 2011 venne promulgata la cosiddetta Lei Sinde che diede al Ministero della Cultura e dello Sport spagnolo poteri assimilabili a quello di Agicom creando una commissione ad hoc che si occupa proprio di questo tipo di procedure amministrative lì in Spagna la Lei Sinde peraltro criticatissima così come il regolamento Agicom aveva una base giuridica una delega da parte del Parlamento spagnolo che il regolamento Agicom non ha nello specifico primo punto critico secondo punto critico credo sia il fatto che il regolamento va a intervenire in un tessuto normativo e tecnico che è di grande complessità che mette in difficoltà anche i paesi più evoluti giuridicamente anche dal punto di vista dell'applicazione delle regole penso agli Stati Uniti penso all'Inghilterra e nel cui nel cui tessuto sono intervenute sentenze importanti di corti quindi di tribunali che sono riuscite a dare corpo e a specificare a rendere più specifiche più più intellegibili norme astratte regole astratte e anche concetti generali che non potrà certo essere questo è il mio punto di vista un'autorità amministrativa a definire in maniera cogente in maniera obbligatoria per tutti quindi un secondo punto debole secondo me è il fatto che trattandosi di un regolamento amministrativo trattandosi di pronunce amministrative che potranno sempre essere controllate in qualche modo da organi giurisdizionali o la giurisdizione civile quella che dovrebbe essere competente a gestire questi problemi e a risolverli e la magistratura amministrativa in sé di controllo di legittimità sull'operato dell'agicom in quanto autorità amministrativa quindi c'è un doppio binario di controllo giurisdizionale che secondo me non fa altro che complicare le cose purtroppo ma tant'è un terzo problema è il regolamento agicom si è tuffato nel mare delle definizioni e tu Gianni mi chiedevi prima informalmente prima di cominciare questa chiacchierata di darti delle spiegazioni su alcuni concetti spiegazioni che io francamente faccio fatica a darti proprio perché da un lato il regolamento agicom è particolarmente dettagliato e minuzioso quando parla di uploader quando parla di rimozione selettiva di un contenuto quando parla di disabilitazione gestore gestore allora negli altri paesi quando si parla di gestore di una pagina internet premesso che la locuzione gestore della pagina internet non si trova in un testo di legge si trova semmai nel testo di legge una definizione ancora più generica e questa definizione più puntuale che è stata data in qualche modo da agicom si trova nelle sentenze cioè quello che noi non abbiamo in questo paese ed è un tema radicale di grande rilevanza è la questione dell'intervento costruttivo efficiente veloce e moderno della giurisprudenza ora io fatta eccezione per alcuni tribunali d'italia per alcune sezioni specializzate per la proprietà intellettuale che adesso si chiama tribunale per le imprese perché ha più competenze di quelle originarie noi non abbiamo questo ci manca il common law ci manca il common law ma io dico che ci manca semplicemente efficienza nella gestione della giustizia se non voglio fare un tema propagandisti ma è proprio così è chiaro che ci sono ambiti in cui è molto più grave l'inefficienza della magistratura ma anche questi sono temi io sono sicuro ne ho parlato anche con alcuni esponenti di cui non posso fare nomi delle major americane o delle major musicali che chiaramente dicono del regolamento Agicom ci rallegriamo ma in un paese se in quel paese in Italia funzionasse bene la giustizia civile non ne avremmo mai avuto bisogno detto proprio è un intervento di supplenza che si è ritenuto importante in questo momento ma sulle cui modalità e sulle cui linee salienti ci sono dei dubbi e appunto tu mi facevi queste domande sul gestore della pagina internet e mi facevi la domanda di Facebook mi facevi la domanda del cioè praticamente il gestore può essere qui tra i anche chiamati eventualmente a rispondere ecco potrebbe essere un amministratore di un gruppo Facebook considerato gestore qua come tra virgolette lo lo definisce perché insomma cominciare siccome su Facebook ormai i gruppi ne fioriscono da e poi uno si trova anche a essere suo malgrado peraltro amministratore e qui quando si parla di gestori di sito o di pagina internet come il prestatore di servizi della società dell'informazione diverso da quelli degli articoli eccetera eccetera che nell'ambito di un sito internet cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parte di esse ovvero collegamenti ipertestuali alle stesse anche caricati da terzi la definizione data del regolamento agico che come dicevo qualche istante fa è puntuale trattandosi di un testo legislativo potrebbe far rientrare la figura dell'amministratore di un gruppo facebook tra i gestori della pagina internet che il regolamento potrebbe rendere attaccabili da qualche punto di vista senz'altro bisogna vedere come l'agicom con il suo collegio che risponderà alle istanze degli eventi diritto interpreterà questo regolamento fermo restando ed è questa la cosa che lo rende debole in astratto poi bisognerà vedere come funzionerà tutte queste qualificazioni giuridiche tutte queste interpretazioni dovranno trovare uno sostegno dal punto di vista giurisdizionale cioè tutte queste categorizzazioni queste cose che negli altri paesi vengono fatte direttamente dai tribunali o probabilmente in italia saranno fatte in prima battuta da un organo non giurisdizionale quindi amministrativo però coloro che si vedranno in qualche modo sanzionati siccome le sanzioni possono essere anche molto gravi anche dal punto di vista economico andranno molto probabilmente se ne hanno i mezzi a impugnare queste interpretazioni davanti a dei giudici ho detto prima che c'è un doppio binario che è scomodo un altro punto difficile giudice amministrativo per la legittimità dei provvedimenti giudice civile per ciò che riguarda la sostanza del diritto autore quindi la sospensione del processo nel caso in cui si apre un procedimento di tipo contenzioso di tipo civilistico allunghiamo il brodo di fatto allunghiamo il brodo quando in altri paesi faccio l'esempio dell'Inghilterra con una giurisprudenza efficace peraltro in una materia contestantissima come questo si è arrivati a delle sentenze importanti di blocco dell'accesso a siti web siti strutturalmente illegali perché avevano una stragrande maggioranza di contenuti illegali sui propri server a misura di blocco però con la garanzia della giurisdizione qui ho l'impressione che per motivi di supplenza e di urgenza si sia reso il procedimento non particolarmente snello perché si è aggiunto un pezzo che in altre parti non esiste quindi avremo qualche regola in più che speriamo non contraddica regole già presenti e che non renda tutto un po' più difficile da applicare secondo me non potrà peggiorare la situazione questo mi sento di dire agli scettici o agli oppositori del regolamento agli secondo me questo regolamento potrebbe essere molto utile nel dare una sveglia perché c'è tanta demagogia in questo settore i contenuti professionalmente prodotti si costano e si pagano ovunque il giornalismo professionale e quindi contenuti di grande livello a livello mediatico il cinema a un certo livello costa ha dei costi è chiaro che il digitale ha la possibilità a tutti di fare un film con una videocamera come questa cosa che non era possibile fino a 10-15 anni fa di metterlo online fermo restando che le produzioni che noi ancora amiamo di più e che fanno tendenza che comunque sono artisticamente o contenutisticamente rilevanti sono quelle ancora fatte dai produttori professionali ora quel tipo di produzione va tutelato fermo restando che va tutelata anche la libertà di espressione va tutelata anche tutta quella creatività immensa che viene dagli amatori dai non professionisti o comunque da persone che hanno pochi mezzi quello è semplicemente un'aggiunta secondo me al panorama creativo precedente l'arrivo di internet ed è una novità epocale veramente che ha cambiato che cambierà la storia della cultura odierna deve secondo me l'agicom nel suo ruolo nel suo ruolo di sveglia Italia svegliati su questi temi accendi il dibattito anche solo per far pronunciare il parlamento che nicchiava sul punto da questo punto di vista il regolamento sarà utile perché cominciando a vedere queste misure anche gli udenti cominceranno a protestare o a dire ma guarda tu agicom che cosa fa e con quale diritto perché in altri paesi lo fanno le corti e qui lo fa agicom ma quindi tutte queste fattispecie che non possono essere fissate in un regolamento tu non puoi in un regolamento in un testo di legge anche secondaria fissare delle definizioni che solo la pratica solo il comando concreto di una sentenza può specificare quindi c'è un azzardo da questo punto di vista giustificato dallo stato di sonno in cui versava questo paese in cui obiettivamente anche casi macroscopici di pirateria senza nessuna pretesa di liberazione della conoscenza a favore dell'umanità giustificavano ora questo è un paese in cui il giornalismo la produzione cinematografica la produzione televisiva hanno vissuto molto molto raramente di meccanismi di mercato c'è stato un sussidio dello stato e non lo devo dire a chi ascolta questo che vede questo programma che hanno in qualche modo reso i meccanismi di mercato evanescenti no? dovete pensare che ci sono altri altri ambiti in altre parti del mondo dove la produzione di contenuti si in qualche modo poggia soltanto sui meccanismi di mercato pensate all'industria di Hollywood tanto bistrattata ma è un'industria che per decenni è andata avanti strutturandosi in maniera secondo me tecnicamente economicamente commercialmente straordinaria poi è chiaro che hanno avuto un potere di lobbying molto forte il diritto d'autore sicuramente ha subito un processo di distorsione anche a causa loro però non tutto ciò che hanno fatto è male bisognerebbe capire perché in Europa si è preferito il sussidio di stato per produzioni spesso di valore abbastanza discutibile e giustamente adesso che le finanze degli stati in Europa sono sempre di meno questi produttori questi creatori si ritrovano senza un sostegno il sostegno precedente dello stato e dicono che facciamo visto che il diritto d'autore su internet non vale allora questo regolamento dà la sveglia per farci capire che il diritto d'autore online dovrebbe valere qualcosa probabilmente sulla carta è troppo forte ed è troppo squilibrato quindi lo dobbiamo cambiare con tutta probabilità nei prossimi dieci anni ed anche la commissione europea sta pensando di cambiarlo con i tempi dell'Europa che sono tempi lunghi quindi io vedo dal punto di vista strutturale i difetti che ho detto da un punto di vista politico un effetto benefico perché ci dovrei interrogare su alcune cose su cui finora ci si interrogava o malamente con molta superficialità o si pensava che il diritto d'autore non valesse più bene nell'attesa che quindi anche LibreTV faccia tendenza di qui a non molto tempo speriamo chiudiamo questa intervista ringraziamo Giuseppe Mazziotti che ci ha aperto questa finestra su questo regolamento e anche parlando appunto in un modo più ampio sul diritto d'autore speriamo che si sviluppi anche un certo dibattito tramite commenti su LibreTV a questo video a presto e alle prossime interviste di LibreTV grazie grazie a tutti